Ok 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 ci siamo ragazzi bentornati in questo nuovo video è un update velocissimo ragazzi quindi ve lo faccio abbastanza rapido perché sto osservando delle cose sul mercato che voglio condividere in time con voi sapete benissimo che vi chiedo sempre di scrivervi con la campanellina perché volevo fare questo aggiornamento e ovviamente ha significatività vederlo subito perché anticipo un po' l'analisi che volevo fare con voi questa sera però volevo darvi ecco due segnali che sto osservando che secondo me possono essere molto significativi e voglio vedere l'action che ci sarà nel pomeriggio partiamo un attimo al volo ecco dalla market cap market cap che si mantiene in una fase di equilibrio e sta aspettando diciamo la prossima mossa di bitcoin lo vediamo sulla dominance dominance che come avevamo ipotizzato sta andando in una fase di equilibrio ok fase di equilibrio dopo questo ritracciamento molto forte che ha avuto in questi ultimi giorni è andato a fare un rimbalzo lo scenario più probabile come vi già dicevo era uno scenario di equilibrio lo stiamo portando avanti ma anche la dominance sta capendo che direzione prendere attenzione perché potenzialmente sulla dominance si può generare anche un nuovo IRI ok rispetto a questo I precedente questo sarebbe un brutto segnale perché vorrebbe dire appunto una prima inversione sull'orario del trend della dominance e quindi uno spostamento di fondi su bitcoin secondo me questa cosa qua la potremmo avere solo e solo se avremo confermato il dump di bitcoin sotto i 30k ok quindi è uno scenario che mi aspetto in caso di dump altrimenti penso che potremo continuare con la lateralizzazione sarà molto importante quello che succederà in questo pomeriggio per questo ho voluto anticiparvelo però cosa sto osservando andiamo diretti al punto bitcoin sto osservando bitcoin perché voglio capire esattamente cosa vuole fare il recupero di ieri è stato molto forte abbiamo ritracciato però purtroppo non siamo riusciti a mantenerci su un lower un higher low scusate rispetto allo precedente dell'orario e quindi ora siamo in una situazione di estrema difficoltà estrema difficoltà che però vi ho evidenziato qua con questo box un box molto 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 importante quello che sto osservando ora che è un'area di estrema liquidità secondo me che si è sviluppata sull'orario questo perché vedete che è un box che abbiamo recuperato sempre molto aggressivamente appena ci siamo approcciati in maniera abbastanza vicina a questo box siamo sempre stati respinti e addirittura abbiamo fatto delle move a rialzo molto forti anche qua ci abbiamo provato questa mattina siamo stati comunque respinti siamo stati riportati direttamente sui 32.5 toccando i 31 quindi vedete che è molto aggressivo però lo stiamo testando tante tante volte per me sarà molto 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 importante ve lo dico non continuare a testare questo box è un box che ci porteremo avanti vedremo magari insieme questa sera come sta andando e si sta reggendo è un box preventivo ok a mio avviso prima del livello che ci siamo detti dei 30k è un supporto che ci sta cercando di tenere a galla e tenerci lontano dai 30.000 ma secondo me sarà la prima area di liquidità importante che si sta sviluppando qui dentro purtroppo non siamo riusciti a fare quello che ci aspettavamo cioè riuscire a recuperare in questa prima fase però ovviamente ragazzi questo è un gioco di probabilità ok lo sapete benissimo non sono consigli finanziari è un gioco di probabilità nulla ci vieta che ora ci prende la fomo e torniamo diretti qui a fare questo però non lo stiamo non stiamo vedendo una reazione diciamo degna di questo nome purtroppo ci abbiamo riassorbito completamente vedete il movimento di ieri è stato praticamente riassorbito al 100% lo potete vedere anche tracciando un fibonacci ora non lo faccio perché appunto serve a poco si vede ovviamente a occhio nudo l'abbiamo riassorbito 100% il che non è non è un bel segnale però però ho anche una bella tra virgolette notizia perché stavo monitorando gli inflow e gli inflow sugli exchange scusate vi rimetto la camera è giusta e questo è l'inflow sull'orario ma stavo perché lo volevo minuturare sempre l'orario ve lo faccio rivedere sul giornaliero nulla di che un piccolo rialzino ma nessuna inversione di tendenza sugli inflow in exchange quindi molto bene molto bene così lo vedete meglio vedete non c'è non c'è un incremento forte siamo sempre comunque abbastanza stazionari in downtrend sugli exchange quindi attenzione non abbiamo ecco dati insight sugli exchange che ci vanno a dare dei dettagli al contrario della positività quindi bene l'analisi fondamentale sugli inflow exchange però stiamo molto attenti mercato manipolato potremmo aspettarci anche delle shadow molto molto forti attenzione a in quel punto non cadere rect io quello che sto facendo è osservare in questa fase prendere posizioni long term può andare bene però prendere posizioni di breve stiamo attenti alla volatilità anche oggi con le leve andateci piano ragazzi sui futures perché vedete che stiamo andando in una fase abbastanza turbolenta le scadenze vicine anche dei futures sono sono comunque stanno facendo sentire non sono rilevanti nel lungo periodo ma nel breve potremmo assistere a delle forti oscillazioni quindi estrema estrema cautela ce lo sta facendo vedere anche ethereum dopo la rebound scusatemi sì la rejection che abbiamo avuto dal dall'all time high ora quello che sta facendo è esattamente quello che sta facendo la dominance cioè capire da che parte vogliamo andare quindi stiamo proprio fermi in attesa di vedere cosa farà bitcoin cosa farà bitcoin quindi ragazzi la dominance vi ripeto un secondino il caso dell'airai ok è il caso del dump di bitcoin a mio avviso altrimenti continuiamo in una fase di lateralizzazione però il gioco ora lo sta comandando bitcoin le big cap vedete che stanno comunque in attesa non vediamo particolari dump non vediamo particolari pump quindi siamo abbastanza abbastanza fermi sto osservando ve lo dico in anteprima stasera volevo parlarvene di un pattern molto molto interessante molto simile a quello che si è sviluppato nel 2017 che assomiglia veramente tanto a un pattern che si è sviluppato sì nel 2017 prima di un ulteriore leg up lo sto osservando voglio vedere un attimino però dove vuole andare a parare insomma in questo momento bitcoin perché farvelo vedere prima non avrebbe molto senso e basta quindi volevo solamente farvi questo update vediamo le alz magari nel dettaglio nel video di questa sera io mi fermo qui se vi è piaciuto questo contenuto vi chiedo sempre di mettere un bel mi piace di iscrivervi al canale mettere sì con la campanellina alle notifiche in modo tale da avere questi contenuti subito perché appunto possono riuscire a salvarvi da alcune posizioni a mettervi qualche campanello d'allarme se c'è da segnalarvelo senza vederlo in ritardo se avete qualche domanda qualche dubbio oppure siete d'accordo con me o contro quello che vi sto dicendo commentatemi pure mi fa piacere rispondere a tutti e noi ci vediamo questa sera ciao ragazzi grazie